Questo è un progetto iniziato all'Università di Firenze alcuni anni fa prima internamente ai nostri laboratori e poi portato qui al Museo del Bargello dove abbiamo voluto inserire nuove tecnologie dell'informazione in particolare delle telecamere che osservano i visitatori e cercano di capire cosa i visitatori osservano di più tra le molte opere che sono esposte in questa sala che è la sala di Donatello quindi il sistema osserva, guarda dove le persone si soffermano di più elabora delle statistiche e poi su un tavolo interattivo presenta il risultato dei ragionamenti che il sistema fa ha capito che è un progetto interattivo che è un museo non lo so, abbiamo visto il museo la prima volta che siamo qui e tutto è interessantissimo all'entrata c'è un televisore non so cosa riguarda però ma sarebbe ma sarebbe il Oh!